Ora prodomi e ora provea. E lì noi stiamo già fuori, ma già senza famiglia. Deve non venne in bocca, perché qualche guaglionetto di camp venne perdere le bionche che gli invagiavano, perché era passato a me venne in bocca. Pare tuttom, in cui gli ore già aviazza a pegnare le bianche e dove per colinche se ne lavavano tutti i luci e i piedi buoni, tanto che le fuori. E' un piede buoni che lasciano la costuma di prendere per donne di morte. Ninna è mati, come il tuo buon vecchio, che aveva un po' che fa lo loro deve. Ma già ha remarcato che in questo posto, in l'etanea, un luogo che risponde ora prodomi, come ragazzi, il Dio Jaume differè. Il Dio Jaume sarebbe un uomo ora provea, e sarebbe una famiglia ora provea. Ninna ha seguitato un commento appena a queste famiglie e la vengono a ascoltare come il Dio Jaume. Siete che racconavano come la buon giù, perché l'un latino io lo so nascerebbe come Ninna. E' una capacità che le giardini e l'ignore le portano alla mula. E' una vera che c'è la mula come il suo gignore. In cui ci sono lì a prendere perdone, Ninna, che pensi che tutti fanno l'italiano, le mie che senti che si fanno agli assi, arriva alla Letanea a seguitare le ponte 20 anni. L'era provea, l'era provea, per insegnare agli altri che per il morto non rispondono ancora prodomi. Allora, l'inquaionette, l'inquaionette, insomma, è il tipo Ponte Pro. L'inquaionette ci sono, in quaioni, in quaioni. L'inquaionette, in quale, si tratta di un'un. L'inquaionette, si tratta di un ragione, per fare un punta di fumiglio. Non si tratta di un ragione, perché ogni ragione si tratta di un ragione. E' un ragione che vivono con la regia, lo ti sei tratta di un ragione. Un ragione che vivono con la regia, quello è un ragione. come si chiama? Berggoline parello che il nome è un po' che ora ci ha fatto il mio nome e ci sono Berggoline ma solo lui e il trifone e le tre, lui le risponde le ho leo, 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 leo le due, non ci sono mai tante espressioni buona pelle e proce e poi a prima la domanda è la lega ha risposto bene dai dai per noi leo, leo, leo pregiapiamo e pregiapiamo pregiapiamo e pregiapiamo pregiapiamo e pregiapiamo un dei famosi personaggi del Tachem che sono conosciuti e lui è il famoso battista diciamo era famosa per contare le balle più grosse lui è il suo arresto che lo collaggio più alto è il 12 mila di 30 metri mi sta sotto l'acqua e ho venuto con di delle balle grosse sull'arraise un neve lo più 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 giovane è quello che mi ho detto è sempre il famoso conti del Battisti di poi il giudice del Rez de Saint-Jacques contato le norme di avviament freight il giorno Battisti era il battit di Charler di Frascei Il reggio di Rese e San Giacomo per la Commissione. Arrivò alla Ciappella, dalla piazza, l'iraparrenne stonà del panco a vera e contrargli un che ci mangia. Ma tutti si copenavano. Ma allora che freddo! Ma che terrete di avere? Che gazzera! Ma che volevi copenare? Voi altri! Facemelo piagere! Voi altri che tutti noi puoi ammortare la chiera. Noi lassù li puoi ammortare. Pensai che c'è davanti e i fai per ammortare la lucerna e non mi cucin, ma soffia che te soffia a trempie il passo a me. Foi per ammortare tu le dè e la tira già là. Ma proprio tutti, ma proprio tutti in Copenazia è troppo perché tant'è tornata già là, andò sulla lunga e così mi pare casa. C'è l'era Battistin di Giallano. Allora, noi quello lamentasse nel piano verbo in Copenazia. C'è l'era di Copenazia. Noi ammortare la chiera e tendere la riciera. E c'è la scenata del famoso Battistin, la polenta. Ma con la chiera alla sala, si è fatta a domani che chiedeva papà. Pazienza, voi facevi una poletta di mazzurro, e Tristan, Bernard, che era là a cercare la farina, usava il torneo e la profetta guida, e diceva a papà che non piace. Che fare? Bittà sui varietà, ma va, grande mondo granchiato, le vittà fette, tu, Bernard, tu fai una campata, anche per me prendere un sacco di bella voi palma, e io frunzato e zermato accettando solo le sale. Parirei che abbiamo fatto. Il cuo che si sono tornato a sono fermato in parte del chalet, dal l'occhio del maggio, sortendo la pancoglia di un'altra, che di Giacchia leva a cominciare le cuore. Il cuo che le bergeri a menaglia, la polenta ha fermato sul tapio. Il cuo che le bergeri a tornare su, la trattornanza, a fare i giorni, polenta e il cuo, la maledizione del cuore. La maledizione del cuore è la volta che è che ho sentito a fare per altre carri della valdutta, in cui viettem il ruolo franzese che all'inizio è là per la valdutta del materna e la cervice. L'incapietà di fare un torpe agli assi e chiedere tutto, in cui faceva già un bel freddo, ma era un panco di neve. Un vetro arriva in un taglio su per arrampare le persone. Si vede che già in un taglio erano dei ciappelli di giù e un neve di ranger atroce che facevano un ciappone da fare. Adonca usè che non c'è più ma per quelli che darò per cercare 6-11, ma non c'è più su quelli che io, perché io lo dirò già l'appeterla. Adonca la levare il pugno in l'air e la d'euro. Merdo il suo motivo per l'auditace di scena e l'auditace di piedi. E io vedi la tua. E io vedi la tua. E con lei da remarcare l'espressione, un ciappet e giù, un ciappaz, facendo un tapage d'affaire. E tu hai appris il ciappone, un nom d'ugere per dire giù. Onze o l'onze. Io vedi un onze o l'onze, io vedi un onze. Non lo muore l'euro. E magari io ti ho detto, non ti chiusi, però. No, no, onze l'allemain punto, come dice. No, no, l'ho giusto, l'ho detto. Sì, che sono le nomi all'onze. Ah, l'anno. L'incontro di Sotiei e Brozzogna viene a stare per creare l'euro. E la più famosa è la racconta di Sotiei e Brozzogna. Scusi di Dias, che hanno levato il ciappone e l'ha fatto ben bianco, si deprezzò, che hanno un gran bel ciappone, mie che su Dias. Già l'uso, che hanno voluto un colore, un ciappone più alto e più nuve. De l'orre fare, se ne prege un po'. E come fa? Ma pensa a chi ti pensa, io andrò. Lo sento che lo consiglio viene imposto a tutte le particolari della parroccia che gli ho dovete, di menare un abbracciare per me o chi non c'è. Per Brozzogna, l'era, un gros sacrificio, perché adoro la parroccia di Brozzogna, ho fumato, all'era un premio, apprezzo il mio Dio. Pugnò che tono femeile ti sta frisando e appartando, un Dias gli ha consigliato di fiorare il cioce di belle drape, per vedere quando non è cresciuto giorno per giorno. De noi, questi Dias, che hanno occupato una bella ricca di drape per tutti i giorni, e tutti i mattini di Brozzogna, erano contenti come ragione, di vedere il cioce di crescere il vostro stadio. Pugnò che hanno mai avuto dei ciali più lunghi, per prendere il drape, si tagliate, e si sono rifiati. L'impressione, un vecchio che c'è, che hanno mai avuto, sapevano che non c'è più di fondo, perché si è finita di crescere. Adesso hanno interagito la resta del drape, e poi hanno imposto a tutti, che hanno portato il fiume, di portare tutta la crana della sennana, per poi, dove non lo abbiamo, che ho fatto. E in cui tu lo trovai, che sta fatto, gli hanno imposto, lo guardo e lo ciampino in tutti i cannazzi per lui, guardare che le mucce, che restano un palle con la trama, tanto la forza seggia. Gli ho un ordre, più ben serio, fare il terra, a tutte le mucce, che si posavano all'intorno. E non ci ha ammazzato la gente, in cui una, si posa sul fronte del ciampino. C'è c'è un figlio, compare, a muccia, c'è, e ho mostrato il fronte del guarde. C'è c'è, l'ha storiappato il cuo, un muro, un tura, un viaggio, un sangue, e la muccia, che si posa sul cioci. Deci un giorno, io non ho mai voluto guardare il cioci, che, entro le mucce e le piogge, le torna nero come levante.